ciao a tutti oggi dobbiamo parlare un po piano perché i nostri amici stanno ancora dormendo ma credo proprio che sia arrivato il momento di svegliarli ma chi è che ci sveglia così presto al mattino finalmente vi siete svegliati e dormiglioni forse è ora di iniziare la nostra giornata e vado per primo a lavarmi si oh questo si che ti risveglia per bene oh è freddo è freddo a me non mi dispiace per niente invece ma adesso ho una fame già è il momento di iniziare a cucinare e beh la roba da mangiare è già qui e noi la mettiamo da questa parte ma per cucinare abbiamo bisogno di un fuoco si Rubble hai proprio ragione e infatti la prima cosa da fare è cercare la legna forza allora siete pronti per andare alla ricerca della legna? 3, 2, 1 parta parta andiamo 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 oh eccola qui ehi ehi anch'io ho portato un pezzo anch'io ma dov'è 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 oh eccolo eccolo lo prendo ehi amici ecco il terzo pezzo oh bravissimi ragazzi adesso li mettiamo qui bene in fila eh ma come facciamo ad accenderlo? non abbiamo nessun fiammifero beh ma a quello ci penso io ho qui le mie belle pietre focaglie wow tu si che sai fare tante cose bisogna stare molto attenti col fuoco ma e bisogna colpire le due pietre finché hop ecco fatto il fuoco sembra già che abbia un profumo buonissimo oh e lo credo bene guarda un po' è già pronto oh ecco qui la nostra zuppa buonissimo già è proprio buono oh bravissimi ragazzi ma ehi bisogna spegnere assolutamente il fuoco non si può lasciare il fuoco acceso quando lo si fa è proprio vero bisogna andare prendere dell'acqua e spegnere subito questo fuoco e infatti Marshall ho esattamente quello che ti serve tieni vai a prendere l'acqua forza ah e finalmente il nostro falò è spento forza adesso bisogna subito stare attenti perché ci sarà un'altra prova bravissimo Marshall hai proprio ragione e hai fatto un ottimo lavoro e infatti la nostra terza prova sarà fatta con questo filo qui voglio vedere chi di voi ci riuscirà e allora chi di voi vuole essere il primo wow ma sembra altissimo ma no assolutamente dovete partire da lì e arrivare fino a qui ma non è una prova di acrobazia va bene va bene allora sarò io il primo a partire allora Rubble sei pronto al mio fischio di inizio wow ma sei bravissimo forza Rubble forza uh forza Rubble forza forza grande Rubble ottimo lavoro ottimo lavoro forza è un gioco da ragazzi è facilissimo amici e adesso è il turno di Chase forza Chase facci vedere quanto sei bravo forza Chase sei il migliore ed ecco fatto dai Marshall è il tuo turno è stato veramente facile wow ma siete stati proprio bravissimi ottimo lavoro è vero sono stati bravissimi che tu che ne pensi eh ricordati che noi abbiamo tantissimi altri video l'importante è iscriversi al nostro canale mettere mi piace e noi ci vediamo presto ciao